Ciao a tutti amiche e amici delle stelle, benvenuti o ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo della settimana, settimana che va dal 24 al 30 giugno 2024. Per tutti i nuovi naviganti che approdano per la prima volta su questo canale io mi presento, mi chiamo Simone, sono un astrologo o meglio un astro coach. Se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le novità in uscita. Oh bene ragazzi, allora ho due comunicazioni importanti di servizio da darvi a questo giro. Finalmente abbiamo trovato una quadra per i consulti e le prenotazioni e quindi vi comunico che sto aprendo le liste per gli appuntamenti dell'estate, dei consulti dell'estate e vi lascio qua sotto nella descrizione del video, ma scorrerà anche un bannerino, con tutte le informazioni per mettervi in contatto con me e prendere un appuntamento. Non vi risponderò io, vi risponderanno delle segretarie che mi aiuteranno nella gestione e nella pianificazione degli appuntamenti. Il consulto però ve lo faccio io e quindi poi ci vediamo una volta che avete prenotato l'appuntamento. Bene, allora l'altra comunicazione importante di servizio che vi voglio dare è che questa settimana non avvengono chissà quali smottamenti planetari, quelli sono già avvenuti la settimana scorsa, quando Venere e Mercurio sono entrati nel segno del cancro, è avvenuto il solstizio d'estate con il sole che è entrato nel segno del cancro e questa settimana non si muove una foglia a livello astrologico, ma nello specifico Venere e Mercurio questa settimana incontreranno con un potente trigono Saturno nel segno dei pesci. E quindi mi voglio soffermare un po' di più nell'introduzione di questo video sulla spiegazione e l'interpretazione di questi pianeti in cancro connessi con Saturno. I pianeti nel cancro, quando sono coinvolti i pianeti personali Venere e Mercurio, quando si trovano in questo spazio zodiacale è tutto più confettoso, è tutto più romantico, è tutto più sensibile e quindi questo ci porta a vivere le relazioni, ad avere un pensiero molto più soft rispetto a prima. E questi pianeti hanno un tratto malinconico che ci porta con il trigono di Saturno a ripensare ai bei tempi andati, ad avere tanti flashback della nostra infanzia, della nostra giovinezza e per chi è più giovane in qualche modo, si vive tutto con un'estrema sensibilità, una sensibilità che ci porta ad accenderci e in alcuni momenti questa sensibilità può esondare, portandoci a manifestare le nostre emozioni, anche per quelli che non sono abituati a mostrare le proprie emozioni. E il che è molto interessante perché poi bisogna anche vedere con chi abbiamo a che fare, se la persona è in grado di recepire, è in grado di accogliere le nostre fragilità oppure no. E questo poi lo vediamo segno per segno dove si può anche manifestare di più questa sensibilità, questo eccesso anche di sensibilità. L'altra cosa importante è che Mercurio siccome governa le notizie, la comunicazione, tutto quello che ha a che fare con le telefonate, le mail, eccetera eccetera, essendo in trigono con Saturno porterà sicuramente delle notizie che hanno a che fare un po' con il passato e quindi se siamo rimasti in una fase di attesa, siamo in sospeso e dobbiamo ricevere delle conferme, abbiamo fatto delle richieste ma è rimasto tutto lì in stand by e quindi questo porterà lo sblocco di determinate situazioni e anche la soluzione a problemi importanti del passato. Altra cosa potremmo ricevere anche delle notizie da persone del nostro passato o rivedere e organizzare delle uscite con persone che non vediamo da parecchio tempo. Questo è un po' il comune denominatore della settimana. Adesso vediamo insieme come sono configurati anche gli altri astri nella ruota zodiacale, quali sono gli appuntamenti della settimana più importanti anche in base alla configurazione della luna, ai passaggi della luna nei segni zodiacali, dopodiché ci concentriamo con le previsioni segno per segno. Il sole sta transitando nel segno zodiacale del cancro, io faccio tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i cancretti in ascolto. Venere e Mercurio si trovano nello spazio zodiacale del cancro, Marte si trova nello spazio zodiacale del toro, poi abbiamo Giove che sta transitando nel segno dei gemelli, Saturno che sta transitando nel segno dei pesci, Urano che sta transitando nel segno del toro, Nettuno che sta transitando nel segno dei pesci, Plutone che sta transitando con un moto retrogrado inserito nel segno dell'acquario. La luna questa settimana apre le danze nel segno proprio dell'acquario, a inizio settimana nelle giornate di lunedì e di martedì transita in questo spazio zodiacale, mercoledì mattina la luna è ancora nel segno dell'acquario dopodiché trasloca nel segno dei pesci e in questo spazio zodiacale ci resta fino a venerdì mattina. Ora queste sono le giornate più importanti perché la luna andrà ad attivare anche la configurazione nuova del cielo con tutti questi pianeti che stanno transitando nel segno del cancro e le giornate di mercoledì dalla tarda mattinata, tutto giovedì soprattutto e la prima parte della giornata di venerdì sono estremamente importanti. Porteranno lo sblocco di notizie, situazioni un po' più armoniche che vanno a risolvere determinate problematiche così come il passato può tornare e affiorare portandoci o piacevoli ricordi anche magari un po' nostalgici ma possono anche ripresentarsi delle persone del nostro passato e poi nel fine settimana la luna trasloca nel segno dell'ariete e avremo un fine settimana un po' più focoso e quindi non perdiamo altro tempo andiamo a vedere come saranno le stelle di questa settimana segno per segno. Parliamo del segno dell'ariete o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. La presenza di questi numerosi pianeti nel segno del cancro porta il nostro ariete a vivere uno dei momenti più importanti del proprio anno solare cioè dal momento in cui il sole è entrato nel vostro spazio zodiacale ed è incominciata la fase del compleanno. Ora in questa fase viene messo un po' tutto sotto revisione, famiglia, casa, gli aspetti connessi al lavoro, la professione, nei rapporti e vengono messi sotto revisione per consentire all'ariete di rinforzare tutte le fragilità o tutte quelle situazioni o tutti quegli aspetti di vita che possono presentare un problema, un ostacolo o una minaccia più avanti e quindi è in una fase di controllo e di revisione. Questa è anche una settimana molto importante per l'organizzazione e la pianificazione. Ci sono probabilmente magari degli aspetti che devono essere rivisti nel vostro modo di lavorare, nel vostro coinvolgimento nella sfera affettiva sentimentale ma anche a livello familiare e quindi molte situazioni verranno proprio messe sotto revisione questa settimana portando il nostro ariete a pianificare nuove strategie. Tutto quello che ha a che fare un po' con la casa, la famiglia, la ricerca dei documenti per quanto riguarda magari una compravendita, l'assumersi magari delle responsabilità per gestire delle situazioni in ambito familiare, personale, così come anche il cercare di risolvere determinate situazioni in ambito professionale, saranno un po' il comune denominatore. La settimana incomincia con una bella luna di transito nel segno dell'acquario. Questa luna spazza via tutte le rigidità che si sono create con il solstizio d'estate, cioè il weekend precedente, che ha visto anche formarsi la luna piena nel segno del capricorno. È una luna che vi porta questa a inizio settimana a pensare proprio al futuro ed è da lì che il nostro ariete incomincia a pianificare e a riorganizzare bene, trovando anche l'appoggio di amici, collaboratori, colleghi o esperti di un determinato settore che interverranno positivamente aiutandovi a trovare una soluzione. Peraltro in queste giornate che vanno da lunedì a mercoledì mattina, se dovete fare delle richieste, se dovete smuovere delle cose, se dovete anticipare dei tempi, fatelo proprio in queste giornate perché sono molto importanti e soprattutto ascoltate l'intuito e ascoltate le emozioni davanti soprattutto a delle scelte importanti che dovete fare. Le giornate invece che vanno da mercoledì nella tarda mattinata, tutto giovedì, soprattutto la giornata di giovedì e la prima parte della giornata di venerdì saranno caratterizzate da questa luna di transito nel segno dei pesci. Ora queste sono giornate estremamente importanti perché vanno ad armonizzare quei pianeti che stanno lavorando in quadratura nel segno del cancro ed è da lì che incominciano ad arrivare delle soluzioni importanti, delle comunicazioni importanti, che si sbloccano delle situazioni che sono rimaste connesse al passato o che hanno subito una battuta d'arresto. Soprattutto per quegli ariete che sono alle prese con delle situazioni da mettere a posto per quanto riguarda o una compravendita immobiliare o per quanto riguarda la famiglia. Magari c'è un familiare che ha bisogno di aiuto e voi non siete riusciti ancora a trovare la quadra a livello logistico. Ci possono essere delle situazioni di sblocco molto importanti e anche per chi è in attesa di ricevere delle conferme di natura economica e quindi se avete fatto delle richieste per un mutuo, un finanziamento eccetera eccetera o se dovete anche semplicemente riscuotere dei soldini quelle sono giornate molto interessanti. Sebbene in alcuni momenti avrete la tendenza o a isolarvi quindi sentirete proprio il bisogno di suonare la ritirata, di stare un po' da soli e alcune situazioni vi possono attivare i ricordi portando un pizzico o di malinconia o di nostalgia. Non sempre, sarà soprattutto la giornata secondo me di giovedì che azionerà tutti questi meccanismi anche di protezione. Per quanto riguarda invece il fine settimana la luna irrompe nel vostro spazio zodiacale e lì sarete un po' i protagonisti del fine settimana. Avrete la possibilità di organizzare qualcosa di estremamente piacevole nel fine settimana magari con amici, parenti ma anche con la persona amata e avrete anche la possibilità nel fine settimana di dedicarvi finalmente, di ritagliarvi del tempo da dedicare solo ed esclusivamente o alle vostre necessità o ai vostri interessi o alla vostra persona. Per quanto riguarda il discorso sentimenti venere in quadratura nel segno del cancro porta la riete a mettere sotto revisione tutti quei rapporti che non sono più rapporti e li mette proprio tutti in fila così come potrebbe anche tirar fuori delle cose che aveva osservato e che ha preso di cui ha preso nota vomitando addosso tutte queste cose se dall'altra parte il partner o quello che in qualche modo dovrebbe essere il partner ma non è ancora un partner o ci sono delle problematiche e che sta in qualche modo agendo in una maniera che non porta il nostro ariete ad essere tranquillo. Ora questa è una settimana dove potreste prendere delle decisioni importanti e quindi tirare anche un po' le somme e queste decisioni molto probabilmente verranno prese entro la fine di questa settimana comunicando all'altra persona che o si cambia oppure voi alzate i tacchi e andate da un'altra parte. Le coppie invece che sono consolidate questa settimana incominceranno a mettersi al lavoro a un ambizioso progetto di realizzazione e di costruzione. Tutto quello che ha a che fare un po' con la famiglia, il nido, la casa, l'arredamento, i soldini per quanto riguarda il prendersi cura del nido sono un po' il comune denominatore. Single questa settimana possono arrivarvi delle notizie per quanto riguarda il passato così come possono ripresentarsi sulla scena persone del vostro passato che o non avete archiviato bene o con le quali c'è la possibilità di dare una nuova chance a queste persone. Prima di dare una nuova chance cercate un attimo di capire se la persona si è evoluta nel frattempo perché se si ripresenta la stessa situazione del passato inutile costruire. Le giornate più interessanti saranno proprio quelle di mercoledì, giovedì e venerdì per quanto riguarda i sentimenti. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno del toro per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. La presenza di questi numerosi pianeti nel segno del cancro che attivano soprattutto la parte connessa alla comunicazione e alla pianificazione dei progetti da realizzare in futuro così come vi aiutano anche a rimettere un po' in fila i ricordi, le cose anche da sistemare non solo nel futuro ma anche nel qui e ora, è un po' il comune denominatore del momento. E grazie alla presenza di Marte nel vostro segno, nel vostro spazio zodiacale, adesso il toro è molto coraggioso e molto consapevole, pronto a scendere in campo per mettere a posto tutte queste cose ma soprattutto di legittimarsi perché ora più che mai il nostro toro sa esattamente cosa gli manca, cosa gli deve essere restituito dall'altra parte e quindi mette nero su bianco quelle che sono le proprie necessità. Questa è una settimana anche molto importante per mettere la firma su dei contratti, ricevere finalmente una notizia che porta allo sblocco di un qualcosa ma anche per partecipare a selezioni e anche ai colloqui di lavoro. La settimana si apre con una luna di transito nel segno dell'acquario, nel punto più alto del vostro cielo e questo ci porta dritti al lavoro, alle cose da mettere a posto, da sbrigare, a tutti i doveri, le responsabilità e anche all'organizzazione e alla pianificazione di tutte queste situazioni. Non escludo che nella giornata di tra lunedì sera e soprattutto martedì mattina alcuni di voi possano sentirsi un po' agitati o anche un po' sotto giudizio e questo vi porterà magari a scattare un attimo in piedi là dove soprattutto nelle dinamiche professionali si creano delle situazioni dove tutte queste cose non vi fanno stare molto tranquilli. Al di là di questo aspetto di tensione queste giornate a inizio settimana sono molto importanti per organizzare, pianificare ma anche già raggiungere un primo traguardo o terminare un progetto che era in scadenza e che vi stava un po' con il fiato sul collo. Sia di natura professionale ma anche per tutti quelli che non lavorano si può tradurre e interpretare questa configurazione del cielo per tutte le cose di natura familiare che sono da mettere a posto o connesse alla casa. Le giornate più importanti della settimana saranno invece quelle che vanno da mercoledì nella tarda mattinata tutto giovedì e la prima parte della giornata di venerdì. La luna di transito nel segno dei pesci vi apre finalmente le porte e aiuterà tantissimo i nati del segno del toro nella comunicazione, nel mettere la firma e nel sbloccare determinate situazioni. Possono intervenire anche persone del vostro passato o persone, vecchi collaboratori, delle vecchie conoscenze che si riveleranno particolarmente utili per raggiungere i vostri scopi oltre al fatto che c'è la possibilità di incontrare magari anche così casualmente una persona del vostro passato e passare così piacevolmente del tempo in compagnia con queste persone del vostro passato, tra cui si possono anche nascondere degli intrusi molto interessanti per quanto riguarda il cuoricino ma ne parliamo tra poco. Queste giornate sono molto utili anche per ricevere una convocazione, una telefonata, una mail importante ma anche per mettere la firma su documenti e quindi se siete in una fase delicata di rinegoziazione, state aspettando delle notizie, un problema vi ha dato del filo da torcere, queste sono giornate che portano notizie, telefonate, comunicazioni e lo sblocco di tutti quei problemi che sono rimasti un po' lì nel passato. Sono anche molto interessanti come giornate per prendere una decisione o una posizione in una strategia nuova, se state pensando di rivoluzionare delle cose a livello professionale o se dovete semplicemente prendere una posizione. Le giornate invece del fine settimana saranno caratterizzate dalla luna di transito nel segno zodiacale dell'ariete, cioè nel segno alle vostre spalle. Quelle sono giornate che possono portare un po' un carico di stanchezza. Più che stanchezza io la vedo come pesantezza a livello emotivo, alcuni di voi sentiranno il bisogno magari di stare un po' da soli, di schierirsi le idee e evitate più che potete di appesantirvi con cose che sapete già che non avete voglia di fare e quindi se dovete rimbrate il cartellino fate quella roba lì che dovete fare. Dedicategli però meno tempo del solito e appena avete l'occasione staccate la spina e riposatevi e rigeneratevi anche magari cambiando alimentazione, cambiando un po' regole, stile di vita perché questo fine settimana agisce proprio su questi livelli e alcuni di voi magari ricevono un invito, ricevono un invito ma non hanno molta voglia, si possono sentire appesantiti o magari non sanno che cosa fare, come organizzarsi nel fine settimana e girano un po' a vuoto, potreste essere un po' difficili da accontentare in questo fine settimana. Per quanto riguarda il discorso sentimenti invece Venere che sta brillando nel segno del cancro rende tutto un po' più fluido soprattutto nella comunicazione e in coppia se ci sono stati dei problemi è adesso che si possono finalmente appianare tutti questi conflitti, trovare finalmente una strategia, una proprio un qualcosa da fare anche in comunione con il partner e raggiungere così gli stessi intenti. È una settimana che vi porterà anche a pianificare delle cose nel futuro, ad esempio se siete alle prese con un trasloco o se dovete mettere a posto delle cose per quanto riguarda la casa. Questi sono aspetti molto importanti che vi aiutano così come anche banalmente a decidere quale sarà la prossima meta per andare in vacanza e con il partner vi rendete conto che adesso c'è la possibilità di fare un ottimo gioco di squadra e anche fronteggiare magari dei problemi facendo fronte comune e questo è un ottimo sostegno a livello emotivo. Per chi è single questa Venere vi facilita tantissimo nel fare nuove conoscenze ma anche di rispolverare vecchie conoscenze che sono rimaste un po' in sospeso o con le quali magari non siete riusciti a organizzarvi bene, a pianificare nel passato e quindi questa settimana ci possono essere novità ma anche grandi ritorni del passato soprattutto nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì che sono quelle dove si possono manifestare tutte queste cose. È possibile anche che magari una vecchissima e lontanissima persona del vostro passato possa ripresentarsi in questo momento con un nuovo biglietto da visita e quindi magari un amico, un conoscente può presentarsi sotto queste nuove vesti. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno dei gemelli o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Questa è una settimana molto importante per quanto riguarda il lavoro ma anche ottenere delle conferme di qualsiasi genere e natura che vi porteranno finalmente a sentirvi in un determinato contesto della vostra vita con la pancia piena. E tutti questi pianeti che stanno transitando nel segno del cancro parlano proprio al nostro gemelli di nuove priorità, di tutto quello che deve portare nuove garanzie nella vostra vita e quindi troviamo le priorità che sono in connessione con il lavoro soprattutto ma anche con tutti i rapporti, le relazioni e tutte le questioni economiche che sono appannaggio della seconda casa astrologica dove stanno proprio transitando in questo momento Sole, Mercurio e Venere in questo spazio zodiacale. Ma questa settimana Venere e Mercurio formeranno un trigono con Saturno che si trova nel punto più alto del vostro cielo e andranno ad armonizzare le frequenze di Saturno portando delle nuove garanzie di costruzione e di solidità soprattutto in ambito professionale ma anche in tutto quello che ha a che fare un po' con le vostre nuove priorità e quindi preparatevi a una settimana di conferme importanti e di nuove situazioni che vi faranno sentire un po' più soddisfatti rispetto a prima. La settimana incomincia con una luna di transito nel segno dell'acquario. Ottime queste giornate ad esempio per chi deve sostenere degli esami, per chi deve sostenere dei colloqui ma anche per chi sta pensando di scagliare una freccia in un'altra direzione. Quindi utilizzate queste giornate anche per guardarvi attorno perché sono molto importanti. Non escludo che possano arrivare delle notizie, delle convocazioni, delle chiamate per dei colloqui anche con pochissimo preavviso e quindi tenetevi magari quei 5-10 minuti di spazio liberi perché potreste averne bisogno. Mercoledì la luna nella mattinata è ancora nel segno dell'acquario e quindi non escludo che possano ancora verificarsi delle situazioni che vi agevolano per chi deve dare degli esami, per chi deve sostenere dei colloqui. Poi però questa luna entra in quadratura nel segno dei pesci e le giornate che vanno da mercoledì pomeriggio tutto giovedì e la prima parte della giornata di venerdì saranno proprio caratterizzate da questa luna in quadratura ma è una luna buona che porta delle soluzioni e delle conferme. Molto importanti queste giornate per chi ha delle riunioni di lavoro, per chi deve pianificare delle cose, per chi deve trovare delle soluzioni, attuare nuove strategie ma anche per chi deve prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda la professione o la famiglia. Ma possono anche arrivare finalmente delle notizie che portano l'ufficializzazione di un qualcosa e che vi aiuteranno a ottenere delle conferme molto importanti. Quindi se avete chiesto magari un cambio di turno, un cambio di ore, se avete chiesto magari al vostro capo, al responsabile delle cose in più in ambito contrattuale, in ambito professionale, possono anche presentarsi tutte queste dinamiche in queste giornate e non solo professionale ma anche a livello economico e personale sono giornate che portano un po' più di conferme e molta molta concretezza e anche voi vi accorgerete che in quelle giornate state cambiando un po' l'umore, il pensiero e diventa tutto molto più concreto, più razionale rispetto a prima. Poi le giornate del fine settimana saranno caratterizzate invece dalla luna di transito nel segno della riete. Ottimo questo fine settimana da condividere con amici o per ritagliarsi del tempo dove potrete dedicare più tempo proprio alle vostre necessità, ai vostri hobby, a tutto quello che vi fa stare bene. È possibile che nel fine settimana alcuni di voi prenoteranno le vacanze o sceglieranno con il partner dove andare in vacanza, tuttavia potreste non spuntarla facilmente proprio nella scelta della location perché questa luna in ariete va un po' in quadratura con i pianeti nel cancro e quindi magari non è così ovvio trovare subito un'intesa con il partner se dovete scegliere magari la location per fare le vacanze e nel fine settimana avrete anche un po' la tendenza a spendere qualcosina di più perché ne sentite proprio bisogno. un po' la scusa è perché ve lo meritate però dall'altra parte c'è anche tutto un cercare di compensare con cose materiali un qualcosa che non ha nulla a che fare con la materia. Per quanto riguarda il discorso sentimenti questa venere nel segno del cancro alza l'asticella delle aspettative nel nostro gemelli. È un gemelli che adesso ha voglia di conferme sia di dare conferme ma soprattutto di ricevere conferme e quindi se siamo in una relazione un po' ibrida che non è ancora una relazione è da questa settimana che il gioco si fa duro anche perché questa venere sarà in trigono con saturno quindi ora più che mai il gemelli scende in campo per chiedere delle conferme e le vuole a tutti i costi. Là dove però si renderà conto che magari dall'altra parte c'è bisogno ancora un po' di tempo o siamo lontanissimi anni luce rispetto a quelle che sono le vostre vere necessità ecco che questa settimana il nostro gemellino potrebbe intervenire prendendo delle decisioni anche molto rigide soprattutto nelle giornate verso la fine di questa settimana. Ad ogni modo in coppia questo è un momento per confrontarsi con tutto quello che ha a che fare un po' con la questione economica familiare il come mettere a posto delle cose tutto quello che ha a che fare un po' con le spese il mettere a posto tutte queste situazioni e questa è una settimana dove anche il partner potrebbe soprattutto nella giornata di giovedì dirvi qualcosa o mostrarvi un qualcosa che vi porta a sentirvi tranquilli e al sicuro. Per quanto riguarda invece i single questa è una settimana un po' malandrina dove possono ripresentarsi o delle persone del passato così come si possono anche manifestare delle persone che ruotano attorno al lavoro e che magari non sapete ancora come collocare e gestire tutte queste persone. Se c'è qualcuno che vi piace questa settimana lanciate un amo in quella direzione soprattutto nelle giornate a inizio settimana e fino a giovedì perché potreste avere un ottimo pescato questa settimana così come si possono anche presentare delle persone con le quali non avevate del tutto archiviato e chiuso e queste persone ritornano o per mettervi alla prova o perché sono effettivamente cambiate portandovi ad ottenere delle garanzie. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! parliamo del segno del cancro per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale è tempo di aprire il pannellino solare di festeggiare il compleanno per il nostro cancro e questo è un compleanno molto speciale perché rispetto agli anni scorsi plutone non si trova più in opposizione e questo vi porterà a sentirvi meno oppressi meno anche impauriti nel prendere delle decisioni nel fare nuove strategie per riappropriarvi anche di quello che vi è stato tolto. È un compleanno dove il nostro cancro sente forte il bisogno anche di rivoluzionare determinati contesti della propria esistenza oppure sente che è arrivato anche un po' il momento di uscire dalla zona di comfort ed esplorare qualcosa. Questa è una settimana molto importante soprattutto per quei cancro che devono prendere delle decisioni o per quanto riguarda lo studio un eventuale corso da fare ma anche per tutti quei cancro che non hanno ancora la benché minima idea di dove andare in vacanza e quindi scegliere la prossima meta per le vacanze. Bando alle ciance però questa è una settimana molto importante perché riceverete delle indicazioni preziosissime da parte del cosmo e quindi vi invito a mettervi all'ascolto vi invito a osservare molto bene che cosa si sta muovendo attorno a voi o dentro di voi e quindi dovete dare molta retta ai segnali questa settimana perché saranno soprattutto le giornate di mercoledì giovedì e venerdì che vi mostreranno delle cose quindi o farete delle esperienze che saranno fondamentali per attivare tutti i nuovi inizi del compleanno così come possono anche apparire sul vostro cammino delle indicazioni preziosissime da sfruttare. La settimana si apre con una luna di transito nel segno dell'acquario è una luna che spazza via l'opposizione della luna nel weekend e quindi nel weekend si è formata la luna che è diventata piena nel segno del capricorno e porta una rigenerazione nelle emozioni. Tutto quello che ha a che fare un po' con l'aspetto burocratico economico e finanziario è un po' il comune denominatore di questo inizio di settimana e non escludo che alcuni di voi debbano in quelle giornate o effettuare dei pagamenti o sistemare delle cose in ambito burocratico ed economico così come possono anche essere delle giornate ottime per incassare un credito se avete mandato in giro delle fatture o se dovete riscuotere davvero dei soldini che vi devono arrivare. A livello emotivo però quelle giornate vi porteranno un po' a vedere il bicchiere mezzo vuoto e quindi sarà un po' difficile riuscire a stare dietro alle vostre necessità in quelle giornate e alcuni di voi possono magari brontolare un pochino. Le giornate invece che vanno da mercoledì nella tarda mattinata tutto giovedì soprattutto giovedì è la prima parte della giornata di venerdì sono giornate molto importanti perché la luna transitando nel segno dei pesci andrà in trigono i vostri pianeti nel cancro e lì sono proprio le emozioni a guidarvi sono le esperienze che farete in queste giornate sono tutte quelle situazioni che andrete a vivere che vi daranno delle importantissime indicazioni da impostare per la nostra per la vostra nuova rotta. Sono giornate estremamente importanti anche per chi deve sostenere degli esami dei colloqui per chi sta pensando magari di iscriversi a un concorso dell'amministrazione pubblica per chi magari è deciso di approfittare di un determinato bando e quindi provateci perché sono giornate estremamente importanti e non escludo che possa arrivare finalmente quella notizia che vi porterà a stare o sereni e tranquilli o innescherà tutta una serie di situazioni nuove che accelerano tantissimo sui nuovi inizi perché ricordatevi che la fase del compleanno è quel momento dove voi siete al primo posto e quindi è da lì che incominciano a prendere forma quelle spinte che vi porteranno poi a intraprendere il nuovo viaggio solare e tutte le cose che realizzerete nell'anno solare incominciano proprio adesso anche sotto forma di input di stimoli e quindi se sentite il desiderio di iscrivervi da qualche parte di guardarvi attorno o alcuni di voi possono addirittura sentire la necessità l'urgenza di andare altrove e quindi di cambiare vita ascoltate tutti questi segnali nel fine settimana la luna transita nel segno della riete porta un pizzico di rigidità ma io la vedo come come alcune cose che farete un po in modo forzato nel fine settimana e magari che ne so una visita alla famiglia un qualcosa magari che sotto forma di obbligo che vi arriva e che vi porta magari in alcuni momenti soprattutto nella giornata di sabato a sentirvi un po così appesantiti tra i doveri le responsabilità e le cose da mettere a posto quindi non premete troppo non chiedete troppo nemmeno a voi stessi cercate nel fine settimana di ridistribuire meglio i pesi e le misure e ritagliatevi soprattutto del tempo di qualità per voi per quanto riguarda il discorso sentimenti venere che sta transitando nel vostro spazio zodiacale porta tutto nella vostra direzione e c'è la possibilità di in coppia con questa settimana di prendere delle decisioni importanti di affrontare magari anche delle tematiche importanti che sono rimaste un po in sospeso e così ricevere attraverso il partner un supporto molto importante c'è anche la possibilità da questa settimana di pianificare delle cose molto importanti con il partner ad esempio se state pensando di avviare qualcosa a livello professionale con il partner questo è un ottimo momento allo stesso tempo questa è una venere che preme forte per ottenere delle conferme delle garanzie dall'altra parte e quindi se non vi sentite ancora del tutto soddisfatti e appagati da questa settimana potreste mettere un po alla prova il partner semplicemente provocandolo in alcuni momenti soprattutto nel fine settimana quando la luna in ariete porterà un pizzico di rigidità in più se invece siete in un rapporto che non è più un rapporto o se si sono si sono verificate delle problematiche importanti questa è una settimana che vi consentirà di ricucire un po gli strappi così come anche di trovare finalmente il coraggio di prendere delle decisioni risolutive che è definitive o è bianco o è nero o funziona o non funziona o sei con me o sei contro di me e quindi potreste essere molto più risoluti nel trarre una conclusione importante se vi rendete conto che non è più un rapporto che vi fa solo male e che ci sono delle e che ci sono delle problematiche che sono insuperabili in questo momento per quanto riguarda invece i single preparatevi perché avrete la possibilità questa settimana di fare degli incontri a mani basse così come ci sarà anche la possibilità di rispolverare un vecchio contatto oppure c'è la possibilità che qualcuno del vostro lontanissimissimo passato sa mostrare un interesse particolare nei vostri confronti così come potreste anche voi sentire un sentimento inaspettato per una persona che magari già conoscete o che è una persona del vostro lontanissimo passato e ci sono dei giorni molto particolari per scoccare una freccia o lanciare un segnale e sono proprio le giornate di mercoledì pomeriggio giovedì e venerdì mattina fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare e vi faccio ancora tantissimi auguri di buon compleanno ciao parliamo del segno del leone o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale leone mi raccomando frena un attimino è tempo di rivedere il proprio coinvolgimento ma soprattutto la propria partecipazione attivamente nella vita vostra e anche per gli altri perché questo è un momento dove i pianeti che stanno agendo nel segno alle vostre spalle possono consumare molto velocemente le vostre riserve di energia e quindi magari cominciate a bomba la giornata e poi vi rendete conto che a metà mattina avete la voglia di andare a casa a dormire perché sono tante le cose da fare è un momento dove il leone sta preparando il terreno alla rinascita e quindi è un po' come se guardasse da dietro le quinte intanto chi sta arrivando chi sta arrivando in platea a sedersi e quindi scruta all'orizzonte ma deve anche fare parecchie cose in questo periodo ci sono magari delle scadenze che vi stanno un po' con il fiato sul collo magari parenti amici partner familiari colleghi che hanno bisogno del vostro aiuto in questo momento e voi non potete frammentarvi in 400 milioni di pezzi voi una persona siete e quindi diventa importante in questo momento pianificare e mettere la bandiera dove arrivate senza pretendere troppo da voi questo potrebbe essere anche un momento dove alcuni di voi si rendono conto che hanno investito troppo su alcune persone che se ne stanno un po' approfittando della vostra pazienza e della vostra disponibilità e questa settimana ci sarà un'occasione in più per vedere le cose per quello che sono senza filtri senza effetti speciali così come sono nude crude bello brutto se vi piace o non vi piace e da lì avrete la possibilità di capire esattamente dove state disperdendo energie inutilmente verso situazioni o persone che non o non portano da nessuna parte o non meritano la vostra partecipazione ad ogni modo questa è una settimana molto importante per raggiungere un traguardo a livello professionale e ottenere così anche dei feedback positivi alla luce di tutti quegli investimenti che avete fatto proprio nel settore professionale la settimana si apre con una luna di transito nel segno dell'acquario in opposizione e lì tutto quello che ha a che fare un po' con gli appuntamenti di lavoro le scadenze vi starà un po' con il fiato sul collo tuttavia non escludo che già nelle giornate di lunedì e di martedì un responsabile qualcuno che sta in alto vi possa dire delle cose che vi porteranno ad avere una soddisfazione o per come avete gestito magari un problema o per come lo avete risolto o per come in qualche modo vi siete assunti delle responsabilità in un determinato momento e quindi il feedback dall'altra parte è positivo e se avete fatto delle richieste se avete smosso delle cose in quelle giornate c'è la possibilità di ufficializzare qualcosa anche per chi ha sostenuto dei colloqui o delle prove d'esame o tanti colloqui c'è la possibilità di ottenere uno sblocco una notizia che vi porterà a ufficializzare delle cose le giornate però più importanti di questa settimana sono quelle che vanno da mercoledì nella tarda mattinata tutto giovedì e la prima parte della giornata di venerdì quando la luna transiterà nel segno dei pesci ottime queste giornate per tutto quello che ha a che fare con la questione finanze tributi fisco cose da mettere a posto non escludo che alcuni di se e se qualcuno di voi è stato un po' perseguitato in questo ambito c'è la possibilità di trovare una soluzione importante e quindi di chiudere anche finalmente un problema che vi ha un po' dato del filo da torcere così come sono anche ottime queste giornate per riscuotere un premio ottenere più liquidità e quindi se avete fatto delle richieste a una banca un istituto di credito i feedback sono positivi proprio in quelle giornate vi arrivano delle notizie importanti anche se siete alle prese con questioni molto delicate in ambito familiare magari se dovete mettervi d'accordo per quanto riguarda una spartizione dell'eredità la suddivisione magari delle quote o se c'è o magari anche il mettersi d'accordo semplicemente tra familiari per chi deve magari gestire determinate cose durante le vacanze eccetera eccetera allo stesso tempo queste sono giornate che vi mostrano esattamente le cose senza filtri senza effetti speciali così come sono e lì avrete la possibilità di o tappare i buchi o di chiudere i rubinetti della vostra disponibilità onde evitare di andare in dispersione io vi do anche un altro consiglio tra mercoledì nella tarda mattinata fino a venerdì nella prima mattinata queste sono giornate dove si possono attivare delle cose dei superpoteri del nostro leone e questi superpoteri vi possono anticipare delle cose potreste sentire fare delle esperienze molto particolari fare dei sogni premonitori così come potreste percepire delle cose con largo anticipo quindi ascoltate tantissimo il vostro intuito il vostro sesto senso soprattutto se dovete prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda invece il fine settimana la luna transiterà nel segno dell'ariete ottima questa luna per fare un viaggetto vedere qualcuno visitare un museo andare a un concerto ma attenzione però perché potreste discutere proprio nel fine settimana con il partner per perché la luna andrà in rotta di collisione con venere soprattutto nella giornata di sabato quindi se non volete litigare discutere occorre sistemare le cose prima e occorre organizzarsi molto prima onde evitare di non capirsi proprio nel fine settimana e per quanto riguarda il discorso sentimenti venere nel segno alle vostre spalle ha il compito di curare tutte le lesioni e le ferite connesse al passato se siete reduci da una separazione un divorzio se alcuni di voi hanno subito un'importante delusione da parte di qualcuno e quindi questo è un momento per curare queste lesioni queste cicatrici e trovare la medicina adatta così come ci sarà anche la possibilità se siete single di incontrare delle persone che possono traghettarvi a un altro appuntamento importante e quindi queste persone arrivano nella vostra vita per mostrarvi che ci sono ancora delle speranze per chi magari ha perso un attimo le speranze ma è anche la venere che può portare il nostro leone a rendersi conto di aver investito troppo su alcune dinamiche su alcune relazioni e su alcuni rapporti e non mi riferisco solo a partner ma mi riferisco anche ad amici parenti e quindi c'è la possibilità che da questa settimana il leone si renda conto soprattutto nel fine settimana che ha investito troppo su persone che pensava potessero essere diverse e invece non lo sono ora se siete in coppia e state bene nessuna paura a parte qualche battibecco nel fine settimana ma ci sta se invece vi rendete conto di appartenere a questa categoria questa è la settimana in una settimana importantissima perché vi aiuterà a prendere delle decisioni a preparare il terreno per poi mostrarvi i super poteri di venere nel momento in cui entrerà dall'11 di luglio nel vostro spazio zodiacale e quindi questa è una settimana dove si possono finalmente sciogliere i nodi mettere le toppe sulle cicatrici del passato e procedere per andare verso il futuro fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno della vergine o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale finalmente l'aria è cambiata e la nostra vergine può respirare a pieni polmoni e tutti questi pianeti che stanno transitando nel segno del cancro portano la nostra vergine a sentirsi molto più leggera più fiduciosa anche nel domani ma anche nelle proprie capacità che si stanno proprio risvegliando in questo momento sono proprio venere e mercurio insieme al sole nel cancro che stanno attivando queste cose oltre al fatto che in alcuni momenti sono i ricordi del passato che si abbracciano insieme al presente accompagnandovi nel futuro perché proprio questa configurazione del cielo vi parla del futuro è arrivato anche il momento di congedarsi da tutti i dolori del passato a tutte quelle situazioni che nel corso dell'ultimo anno e mezzo vi hanno dato del filo da torcere e questi pianeti di transito nel segno del cancro vanno ad armonizzare l'opposizione di saturno peraltro questa settimana la luna entrando in opposizione incontrerà saturno e formerà un trigono molto potente con questi pianeti che stanno transitando nel segno del cancro e quindi possono arrivare delle notizie importanti così come avrete la possibilità di chiudere finalmente un capitolo della vostra vita e di andare incontro al futuro con più fiducia e più leggerezza ma andiamo con calma la settimana si apre con una luna di transito nel segno dell'acquario e l'inizio di settimana è un po caotico dal punto di vista organizzativo e logistico probabilmente ci sono delle cose in scadenza magari siete pieni di roba da fare anche per chi deve spostarsi o sostenere dei colloqui o ci sono dei sopralluoghi da fare o dei viaggi di lavoro i primi due giorni della settimana sono impegnativi soprattutto per quanto riguarda il fisico e quindi mi raccomando rallentate un attimino ma soprattutto non intasatevi di roba extra da fare perché non ha molto senso cercate di pianificare organizzare etichettare dare un bel andamento alla settimana e se sfruttate positivamente i primi due giorni della settimana camperete un po di rendita mercoledì mattina la luna è ancora nel segno dell'acquario dopodiché trasloca nel segno dei pesci formando un'opposizione e quelle giornate che vanno da mercoledì pomeriggio fino a tutto fino a venerdì mattina sono molto importanti in quelle giornate possono arrivare delle notizie che portano l'ufficializzazione di un qualcosa e quindi non escludo che possiate mettere la firma su un nuovo contratto di lavoro ottenere un feedback positivo da parte di un capo così come potreste incontrare anche delle persone che vi aiuteranno tantissimo a raggiungere i vostri scopi peraltro in quelle giornate non escludo che un amico un professionista un esperto possa darvi un'imbeccata possa darvi un consiglio che si rivelerà particolarmente utile per raggiungere i vostri scopi ma anche per ottenere maggiore chiarezza se dovete soprattutto prendere delle decisioni quelle sono giornate di estrema consapevolezza che vi aiuteranno a mettere un punto da qualche parte e a svoltare più leggeri e farete delle esperienze vivrete delle emozioni che vi anticipano delle cose e quindi date retta ai segnali date retta all'intuito se dovete fare delle richieste se dovete prendere delle decisioni muovetevi tra mercoledì pomeriggio e venerdì mattina anche perché la giornata di giovedì è molto molto importante e sarà soprattutto la giornata di giovedì molto importante per voi nel fine settimana la luna transiterà nel segno dell'ariete potreste sentirvi un po più insoddisfatti potreste essere un po polemici o potreste polemizzare su tutto con persone con le persone che vi stanno un po attorno ci può stare ragazzi è la luna che va in rotta di collisione con quei pianeti nel segno del cancro io la vedo la interpreto più come un fine settimana dove avreste voluto fare delle cose e magari non potete farle perché per responsabilità o motivi extra si possono creare delle interferenze sarà soprattutto la giornata di sabato a darvi a portarvi queste cose dopodiché la situazione cambia già domenica ci sono delle frequenze diverse prestate un po di attenzione alla gestione delle finanze nel fine settimana perché potreste per compensare dei vuoti eccedere mettendo le mani nel portafogli parliamo di rapporti e di relazioni questa è una settimana importante soprattutto per chi ha delle ferite connesse a delle delusioni del passato è una settimana questa che vi consentirà di svoltare emotivamente di chiudere e di lasciarvi finalmente alle spalle qualcosa e di procedere dritti e spediti verso il futuro peraltro non escludo che si possano anche presentare delle persone che vi aiutano vi traghettano fuori dal problema una volta per tutte aiutandovi così a chiudere definitivamente quel capitolo magari doloroso della vostra vita se siete single questi in questo momento gli amici anche di un lontanissimo passato possono cambiare di destinazione d'uso o voi potreste provare un sentimento inaspettato per un amico per una persona che conoscete da tantissimo tempo e se dovete lanciare un amo fare una provocazione o semplicemente fare toc toc per vedere che cosa si risveglia dall'altra parte utilizzate proprio le giornate che vanno da mercoledì a venerdì che avranno un effetto wow se invece siete in coppia non ci sono problemi questa è una settimana che porta delle conferme molto importanti soprattutto nella pianificazione nella realizzazione dei progetti nel futuro e tutto quello che comincerete a innescare adesso sotto forma di preparazione del terreno di questo dello sviluppo di questi progetti poi vi porterà entro la fine dell'estate inizio dell'autunno a raggiungere dei traguardi importanti con il partner non escludo che questa settimana il partner farà qualcosa proprio nelle giornate centrali che vi farà capire quanto siete importanti per lui o per lei fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno della bilancia o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale questo è un momento importantissimo per la bilancia dove si possono raggiungere dei traguardi molto importanti sia in ambito professionale ma anche per tutto quello che riguarda il versante personale casa famiglia relazioni rapporti e tutti questi pianeti che stanno transitando in quadratura nel segno del cancro portano sì un aumento delle responsabilità in alcuni momenti è proprio il tempo quello che manca quello che rincorre la bilancia ma allo stesso tempo si creano delle condizioni importantissime che aiutano la bilancia a tagliare dei traguardi molto importanti tutto quello che ha a che fare con la pianificazione dei progetti da realizzare nel futuro tutto quello che va che va preso e rivisto ma anche tutte le decisioni le scelte le nuove strategie da attuare in ambito professionale o in ambito personale sono il comune denominatore questa settimana in alcuni momenti la luna andrà ad armonizzare il tutto portandovi ad ottenere delle conferme importanti soprattutto per quanto riguarda il lavoro e il ruolo che la bilancia ha nel mondo o in un determinato contesto in questo momento aiutandovi così ad avere una maggiore chiarezza e a prendere delle decisioni importanti o a scendere in campo per mettere a posto tutte queste cose con un atteggiamento completamente diverso anche perché questa è una stagione estiva che appena incominciata senza aver più tra in mezzo ai piedi plutone che tutti gli anni in questo periodo si attivava e che quindi portava anche la nostra bilancia ad avere delle paure a smuovere delle cose ora la settimana si apre con una luna di transito nel segno dell'acquario e i primi due giorni della settimana spazzano via tutte quelle malinconie tutte quelle fragilità tutte quelle cose che si possono essere manifestate con la luna che era diventata piena verso la fine della settimana la luna piena nel capricorno come ne abbiamo parlato la settimana scorsa questa questo inizio di settimana vi ha già veloce spedito e possono arrivarvi delle conferme dei feedback positivi così come potreste sentirvi carichi e pronti emotivamente per prendere finalmente una direzione ben precisa se avete un progetto che è in scadenza se ci sono delle cose che dovete mostrare agli altri se dovete fare delle richieste fatelo proprio tra lunedì e martedì perché sono giornate molto importanti disse c'è un warning nel cielo in quelle due giornate che ha a che fare con la contabilità e le questioni finanze è possibile che in queste due prime giornate della settimana dobbiate andare alla ricerca di un documento dovrete mostrare delle cose o dovrete reperire dei documenti delle certificazioni delle cose per quanto riguarda magari la dichiarazione dei crediti o se ci sono dei pagamenti che o se ci sono dei pagamenti in scadenza le giornate però che vanno da mercoledì pomeriggio tutto giovedì soprattutto la giornata di giovedì e la prima parte della giornata di venerdì saranno caratterizzate dalla luna di transito nel segno dei pesci e queste sono giornate molto molto importanti che vi porteranno a tagliare un traguardo che vi porteranno a raggiungere una meta ben precisa è possibile che alcuni di voi possano ottenere nuovi incarichi e maggiori responsabilità in ambito professionale così come si possono anche presentare delle convocazioni possono arrivare delle notizie possono arrivare finalmente quelle telefonate quelle mail che sbloccano un problema e che vi portano la soluzione delle conferme molto importanti soprattutto in ambito professionale ma sono giornate anche che vi mostrano delle cose nuove che vi aiuteranno ad avere una maggiore consapevolezza e a trovare il vostro posto nel mondo a collocarvi nel modo giusto e quindi mi riferisco soprattutto a quelle persone che possono che magari non si sentono del tutto realizzate e appagate e grazie a questa luna capiscono che magari è arrivato il momento di guardarsi attorno ed è possibilissimo che in quelle giornate possano arrivarvi delle richieste per dei colloqui conoscitivi o delle risposte che state aspettando nel fine settimana la luna entra in opposizione nel segno della riete quindi bisogna stare attenti alle discussioni con familiari ma anche con il partner perché quella luna può attivare delle cose nel fine settimana è una luna che però vi mostra anche quali sono i vostri difetti le vostre mancanze e quindi bisogna anche in qualche modo trovare un compromesso un punto di incontro per far funzionare le cose però tutto sommato il fine settimana può essere anche molto interessante per organizzare pianificare qualcosa con gli amici per quanto riguarda il discorso sentimenti venere si trova nel punto più alto del cielo della bilancia ed è una venere fredda rigida imparziale un po' spigolosa che porta la nostra bilancia o a sentire il forte bisogno di controllare determinati ambiti e aspetti così come porta anche la bilancia a sentire forte il bisogno di prendere delle decisioni per capire dove stiamo andando se parliamo di una bilancia che è insoddisfatta in un rapporto ecco che questa è una settimana dove vedremo una bilancia scendere in campo a prendere delle decisioni soprattutto nel fine settimana se invece parliamo di una bilancia che è in coppia e sta bene non c'è nessun tipo di problema è possibile che da questa settimana il lavoro le responsabilità la famiglia la casa possano sottrarre tempo di qualità nella vita a due e quindi nel fine settimana c'è come un richiamo c'è come un ehi dove stiamo andando che stiamo facendo quali sono le priorità e quindi bisogna correggere e rivedere tutti questi aspetti ma tutto sommato è anche una buona un buon momento questo per costruire e solidificare il rapporto mettendo in cantiere progetti anche molto ambiziosi tra cui ci può essere anche il discorso casa casa nuova per quanto riguarda invece i single con questa venere c'è la possibilità che qualcuno in ambito professionale possa catturare la vostra attenzione in questo momento e c'è anche la possibilità di rispolverare un vecchio contatto del vostro passato o che possa presentarsi una persona del vostro passato in questo caso però dovete stare molto attenti e osservare dall'altra parte se ci sono dei cambiamenti perché se ritorna una persona dal vostro passato e torna con gli stessi problemi che vi hanno portato a chiudere la relazione non ha molto senso incominciare adesso possono anche arrivarvi delle persone che in questo momento non possono darvi delle conferme portate pazienza fino all'11 di luglio poi le cose si sbloccano fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno dello scorpione o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale è un periodo davvero interessante questo grazie al sostegno di molti pianeti che stanno transitando nel segno amico del cancro e che vanno ad armonizzare un cielo che ha creato parecchi scossoni nel corso degli ultimi mesi e questi pianeti adesso mostrano l'indicazione da seguire e queste indicazioni parlano proprio dell'affermazione del nostro scorpione di tutto quello che è arrivato il momento di instradare sotto forma di novità ma possono anche presentarsi delle occasioni che aiutano a rispolverare vecchi progetti vecchie idee portando soluzioni importanti nei problemi o in alcune dinamiche che possono rappresentare ancora un ostacolo per lo scorpione portando così la soluzione a questi problemi è un momento dove si allargano gli orizzonti nuovi da esplorare così come possono anche arrivare attimi di consapevolezza nuova che vi aiutano a scendere in campo per legittimarvi con un atteggiamento completamente diverso c'è un marte in opposizione ancora che in alcuni momenti può creare qualche ostacolo soprattutto nei giudizi non richiesti o in alcune dinamiche connesse alle relazioni di qualsiasi genere e natura e quindi con marte in opposizione bisogna sempre trovare un punto di incontro per ripristinare un equilibrio per trovare una soluzione anche se non escludo che da questa settimana una persona che vi ha remato contro possa o tendervi una mano o darvi finalmente in mano l'alibi che vi consentirà di agire e di trovare finalmente una soluzione la settimana si apre con una luna di transito nel segno dell'acquario ed è un inizio di settimana un po' appesantito dove vedo uno scorpione fagocitato da tanti impegni situazioni connesse la casa, la famiglia, il lavoro, i ritmi, le responsabilità che possono a inizio settimana creare un momento di fragilità ed è soprattutto la giornata di martedì quando una provocazione pone un atteggiamento magari che vedete dall'altra parte nel lavoro o in famiglia che non vi fa stare tranquilli può attivare tutti i meccanismi anche inconsci di difesa del nostro scorpione il consiglio però è quello di non agire di impulso soprattutto davanti alle provocazioni o davanti alle butade che possono presentarsi proprio nella giornata di martedì perché il rischio è quello di mandare in disequilibrio utilizzate le giornate che vanno da mercoledì pomeriggio fino a venerdì mattina perché avranno un effetto wow queste giornate peraltro vanno ad armonizzare tutto grazie alla luna che transita nel segno dei pesci e che andrà in trigono con quei pianeti nel segno del cancro e queste giornate non portano solo soluzioni ma portano anche delle novità e vi portano anche ad ottenere un bel pizzico di fondo schiena e quindi se dovete fare delle richieste per tutti quelli che magari devono sostenere degli esami dei colloqui o per quelli che devono prendere delle decisioni importanti queste sono giornate dove potreste davvero essere baciati dalla fortuna non escludo che possano arrivare delle notizie delle convocazioni per dei colloqui o per delle selezioni importanti proprio in quelle giornate tra le tante cose in quelle giornate possono anche presentarsi delle persone o del vostro passato o nuove che vi daranno dei consigli molto importanti ma soprattutto sfruttate al massimo queste giornate che portano anche visibilità per fare delle richieste per smuovere delle cose per portare l'attenzione da qualche parte le giornate invece del fine settimana saranno caratterizzate dalla luna di transito nel segno dell'ariete non intasatevi di cose da fare nel fine settimana cercate di prendere fiato di riposare di rilassarvi ma soprattutto è una luna quella in ariete che vi chiede di prendervi cura del vostro corpo nuovi ritmi più coccole dal punto di vista proprio energetico fisico dovete prendervi cura di voi in quelle giornate e non escludo che alcuni di voi possano anche incominciare magari una bella dieta o ad allontanarsi da tutto quello che sta diventando un po' tossico anche nei ritmi per quanto riguarda il discorso sentimenti venere che sta brillando nel segno amico del cancro apre così una stagione che è quella dell'estate molto importante per gli incontri e per le relazioni che sono già in corso in questo momento se parliamo di rapporti nuovi appena nati questo è un momento importantissimo per instradare il rapporto per dargli una destinazione molto importante e questa settimana il nostro scorpione riceverà delle conferme importanti da parte del partner proprio nelle giornate di giovedì proprio nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì ma parliamo anche di single che con questa venere saranno agevolati tantissimo nel fare nuove conoscenze così come possono anche riallacciare i contatti con una persona del passato l'amore può presentarsi in questo momento anche attraverso i social network i corsi di aggiornamento e di formazione tutto quello che ha a che fare magari anche con l'estero e anche per chi è in viaggio per motivi di lavoro o di piacere e questo è un momento che fa la differenza se vi piace qualcuno, se avete messo gli occhi su qualcuno utilizzate le giornate di giovedì e di venerdì per lanciare una provocazione per chi invece è in coppia questo è un momento dove si sciolgono un po' i nodi tutte le tensioni del passato e avrete così la possibilità di chiudere, di archiviare di lasciare alle spalle quei problemi e di proiettarvi verso il futuro questo è un ottimo momento per organizzare un viaggio con il partner per decidere quale sarà la prossima meta ma anche per incominciare a sviluppare un progetto molto importante che realizzerete entro ottobre fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno del sagittario per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale beh che dire questa nuova configurazione del cielo che vede questi numerosi pianeti di transito nel segno del cancro attivano una delle fasi più interessanti quella della rigenerazione il nostro sagittario può lasciarsi definitivamente alle spalle da questa settimana la fase di opposizione solare che è incominciata alla fine di maggio e che ha portato il nostro sagittario a scendere in campo a mettere a posto le cose a fare bilanci trarre delle conclusioni importanti ed è in questa fase di rigenerazione che prende finalmente fiato che si accorge e si accorge anche di essere seduto su un pozzo di petrolio perché in questo momento si stanno risvegliando delle capacità del nostro sagittario dei talenti ma possono anche essere ambizioni sepolte vecchie ambizioni che tornano a galla creando così dei nuovi stimoli che accendono quella curiosità di andare ad indagare di andare a stanare di andare in profondità e questo è un momento da sfruttare molto importante perché ci parla anche di nuove strategie di situazioni che portano il nostro sagittario a uscire dalla zona di comfort per mettersi in discussione o per mettersi alla prova ma è anche un momento dove questi pianeti possono portare a galla delle sorprendenti verità aiutandovi così a fare una scrematura migliore con degli occhi un po' più attenti su determinati personaggi che stanno ruotando nella vostra vita per chi ha una libera professione magari si tratta di un collaboratore per chi ha una società magari e deve prendere delle decisioni importanti deve attuare nuove strategie per chi invece lavora in team o ha a che fare con persone nel lavoro ecco che vengono mostrate tutte queste cose e questi nuovi dettagli queste rivelazioni vi aiuteranno a maturare delle scelte importanti che vi porteranno a legittimarvi per non parlare del fatto che da questa settimana possono arrivarvi delle conferme inaspettate sia di tipo familiare magari avete avuto un familiare che vi ha remato un po' contro che vi ha messo alla prova che vi ha dato del filo da torcere e che vi tenderà una mano in modo inaspettato così come possono anche arrivare dei soldini dei crediti che dovete riscuotere e che state aspettando da parecchio tempo la settimana si apre con una luna di transito nel segno dell'acquario e le prime due giornate della settimana a livello organizzativo logistico saranno un po' impegnative soprattutto perché vi staranno addosso gli altri e non escludo che nella comunicazione o con un collega o con un socio si possano anche creare dei fraintendimenti soprattutto nella giornata di martedì quindi mi raccomando potreste sentirvi un po' distonici a inizio settimana potreste andare veloce così come potreste accorgervi che gli altri stanno andando troppo veloci e quindi bisogna correggere delle cose nelle prime due giornate onde evitare di strafare e onde evitare di farsi travolgere da queste da queste frequenze energetiche un po' ballerine se dovete fare delle richieste se dovete portare all'attenzione qualcosa utilizzate le giornate di lunedì e di martedì perché vi aiuteranno a farvi notare ma anche a far emergere il problema mercoledì nella seconda parte della giornata di mercoledì tutto giovedì e giovedì ragazzi è una giornata molto importante e la prima parte della giornata di venerdì saranno caratterizzate dalla luna di transito nel segno dei pesci questa luna pur essendo in quadratura troverà il supporto di tutti quei pianeti che stanno transitando nella vostra ottava casa nel cancro e quelle sono giornate di nuova consapevolezza dove si sciolgono un po' i nodi dove vi sentirete molto più conciliati anche nei confronti del passato in tutto quello che avete subito e questa luna farà da lente di ingrandimento mostrandovi esattamente dove è arrivato dove dovete disinvestire e dove invece dovete investire per promuovere tutti i vostri tutti i vostri progetti si possono risvegliare quelle capacità uniche solo vostre che vi porteranno a vendervi al migliore offerente si possono risvegliare dei progetti che avevate messo da parte tempo fa oltre al fatto che si possono anche sbloccare delle situazioni che vi hanno dato parecchio filo da torcere per quanto riguarda la famiglia e la casa in quelle giornate date retta ai segnali ma soprattutto date retta al vostro intuito le giornate del fine settimana saranno caratterizzate dalla luna di transito nel segno dell'ariete e questo vi porterà a sentirvi energeticamente dei leoni e tutto quello che ha a che fare con le amicizie i viaggetti brevi tutto quello che ha a che fare con i divertimenti sarà un po' appannaggio del fine settimana parliamo di rapporti e di relazioni perché questa venere di transito nel segno del cancro sta attivando un processo di trasformazione vostro o vi accorgete che alcune cose stanno cambiando in un rapporto quindi datevi magari del tempo ancora per capire dove vi sta portando questa nuova configurazione del cielo che cosa sta emergendo sotto forma di nuovi bisogni di necessità ma soprattutto parlatene con il partner non tenetevi tutto dentro ricordatevi che in questa fase il bisogno è quello di uscire dalla zona di comfort e quindi di esplorare delle cose soprattutto se avete voglia di fare delle cose in condivisione con il partner potrebbe questa venere rendere più esposti a queste cose del segno del sagittario a guardarsi attorno e quindi a considerare che forse l'erba del vicino è più verde ecco in questo caso sarebbe meglio non avviare dei rapporti extra in questo momento perché non escludo che più avanti poi possano presentare una problematica ma se parliamo di un rapporto che funziona dove non ci sono problemi questo è un momento importante per lavorare su il budget per sviluppare un progetto ambizioso che può riguardare la casa o un investimento importante da fare con il partner per quanto riguarda i single questa è una venere che vi porta a prendervi delle belle soddisfazioni nei confronti del passato ma è anche una venere che vi porta a sentire forse sentire di più l'esigenza di divertirvi anziché costruire in questo momento quindi non escludo che possiate trovare delle persone che vi traghetteranno a un altro appuntamento importante oppure tutto quello che nasce in questo momento sotto forma di divertimento può trasformarsi in qualcos'altro dalla seconda metà di luglio in avanti quando venere entrerà nel segno amico del leone e le giornate di mercoledì giovedì e di venerdì vi porteranno a rompere uno schema rigido mentale o un tabù fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollici in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno del capricorno per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale il capricorno è uno dei segni più coinvolti da questa nuova configurazione del cielo che con l'inizio dell'estate vede transitare in opposizione sole mercurio e venere e quindi è tempo di bilanci di trarre delle conclusioni di fare delle scelte importanti per ripristinare un equilibrio per mettere le cose a posto e quindi tutte le scelte tutte le decisioni che metterete in campo adesso vi porteranno entro e non oltre l'autunno a raggiungere dei traguardi importantissimi soprattutto per quanto riguarda il lavoro ma anche se ci sono delle cose da mettere a posto per quanto riguarda i rapporti e le relazioni perché l'opposizione vi obbliga a fare un focus proprio in tutte queste dinamiche mettendo sotto revisione soprattutto i rapporti e le relazioni di qualsiasi genere e natura e vi obbliga a scendere in campo a prendere delle decisioni ma è un'opposizione diversa rispetto agli altri anni perché negli altri anni l'opposizione andava a risvegliare Plutone che stava transitando nel vostro spazio zodiacale e quindi il nostro capricorno scendeva in campo magari prendeva anche delle decisioni ma lo faceva con la paura il rischio che potesse magari crollare tutto addosso o che quelle decisioni avrebbero poi comportato chissà che cosa più avanti oggi è un capricorno che senza Plutone agisce senza avere più quella paura di andare incontro a queste novità e quindi è un capricorno più risoluto e questa settimana si creano proprio delle situazioni molto importanti che vi porteranno la conferma e vi porteranno a ufficializzare qualcosa di estremamente importante la settimana si apre con una luna di transito nel segno dell'acquario e questa luna parla proprio di pianificazione di tutto quello che strategicamente dovete mettere in campo a inizio settimana un progetto potrebbe starvi un po' con il fiato sul collo oppure c'è la possibilità che alcuni di voi debbano rivedere un attimino dei conti debbano rifare meglio dei conti per sistemare delle cose soprattutto in ambito economico e professionale ma il meglio arriverà nelle giornate che vanno da mercoledì pomeriggio tutto giovedì e la prima parte della giornata di venerdì grazie alla luna di transito nel segno dei pesci lì possono arrivare delle notizie che state aspettando da tantissimo tempo ottime queste giornate per chi deve sostenere degli esami dei colloqui di lavoro dove possono anche vedere finalmente accolte le richieste che avevate fatto magari a un capo a un superiore ma non solo perché quelle giornate vi aiutano ad avere le idee molto chiare su come bisogna scendere in campo quali scelte quali decisioni fare e prendere e quali sono le strategie da mettere in campo e state molto attenti ai segnali in queste giornate perché potreste anche fare la conoscenza di persone che vi aiuteranno a raggiungere i vostri scopi e quindi anche le pulci che vi arrivano che vi mettono nelle orecchie tutte le indicazioni i segnali le sensazioni le persone che incontrerete in quelle giornate avranno qualcosa di importante da mostrarvi le giornate del fine settimana saranno caratterizzate invece dal transito della luna in quadratura nel segno dell'ariete quelle sono giornate che possono provocare un pizzico di fastidio soprattutto nelle emozioni e lì potremmo vedere un capricorno un po' più fragile un po' più vulnerabile soprattutto per quanto riguarda la famiglia la casa i ricordi del passato tutto quello che è andato e che non torna più magari potreste rivivere potreste ritornare nei luoghi dell'infanzia nel fine settimana e rivivere il tutto con un pizzico di fragilità o delle emozioni che vi portano ad esondare o a non riuscire proprio a elaborare queste emozioni ad ogni modo nel fine settimana non fate il passo più lungo della gamba non traete conclusioni affrettate ottimo invece ripiegare su tutto quello che invece vi tiene occupati vi dà benessere per quanto riguarda magari la sistemazione della casa oppure proprio darsene da qualche parte mettere un po' di distanza tra voi e la casa la famiglia le responsabilità i pensieri del lavoro per quanto riguarda il discorso sentimenti l'opposizione di venere rappresenta uno dei momenti più importanti per quanto riguarda il rapporto e la relazione ed è adesso che avrete la possibilità che c'è la possibilità di ufficializzare qualcosa in coppia e quindi le coppie che funzionano e che vanno d'accordo anche per tutti quei capricorno che hanno avviato da pochissimo una relazione adesso arrivano a un punto di maturazione importantissima e sono proprio le conferme che questa settimana vi aiuteranno a raggiungere un traguardo importante potreste ricevere delle dichiarazioni importanti da parte del partner proprio questa settimana così come il partner potrebbe darvi delle garanzie che vi aiuteranno a ufficializzare qualcosa ottimo questo momento ad esempio per pianificare un matrimonio ma anche per pianificare una convivenza o fare le prime esperienze che vi aiuteranno a costruire a fortificare il rapporto nelle coppie che sono già consolidate questo è un ottimo momento per fare un ottimo gioco di squadra nello sviluppo di progetti molto importanti che realizzerete entro l'autunno ma è anche un momento di scelte di decisioni importanti dove il capricorno può sentire la necessità di prendere le distanze da tutto quello che non gli corrisponde più che si è allontanato da sé e quindi se un rapporto non è più un rapporto se ci sono delle cose che non funzionano più questo è un momento per prendere delle decisioni importanti e chiudere e archiviare tutto quello che c'è da archiviare senza però avere paura delle conseguenze paura di non farcela anche perché Plutone non c'è più e quindi vedo un capricorno con una consapevolezza nuova anche per tutti quelli che magari avevano una dipendenza affettiva adesso io vi vedo molto più sicuri di voi per quanto riguarda invece i single questa è una settimana ballerina perché possono ripresentarsi delle situazioni del passato magari con persone che avete conosciuto o alla fine dell'inverno inizio della primavera o addirittura parliamo di un passato remoto così come si possono presentare delle occasioni anche per conoscere nuova gente questa settimana anche attraverso l'uso della tecnologia dei social network o attraverso uno spostamento e le giornate più importanti per riallacciare i rapporti o conoscere qualcuno sono proprio le giornate di mercoledì pomeriggio giovedì e venerdì fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno dell'acquario per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale questo è un periodo molto importante per il nostro acquario perché la presenza di molti pianeti all'interno dello spazio zodiacale del cancro porta al nostro acquario a mettersi un po' in discussione a cercare di capire qual è il proprio ruolo nel mondo qual è la propria posizione che deve adottare quali sono le nuove strategie i progetti che meritano di essere coltivati sviluppati e quelle cose che invece sono da lasciare indietro perché rappresentano semplicemente una perdita di tempo persone comprese in questo momento e quindi diventa una fase importantissima per preparare il terreno a un altro appuntamento importante che si verificherà su luglio quando questi pianeti nel cancro entreranno in opposizione portandovi a prendere delle decisioni importanti e a fare delle scelte che vi aiuteranno tantissimo ma in questa fase è capire anche un po' lo scopo di alcune cose andare in profondità e cercare di capire cosa è fattibile e che cosa non è fattibile in questo momento tutto quello che ha a che fare con il fisico il rapporto con il fisico tutto quello che ha a che fare con il concetto del benessere è un po' il comune denominatore di questa fase e questa settimana tenetevi pronti perché vi arriveranno delle conferme che vi aiuteranno a sentirvi un po' più realizzati e con la pancia un po' più piena la settimana si apre con una luna di transito proprio nel vostro segno zodiacale e questa luna in acquario nella giornata di martedì soprattutto farà un po' di scintille con marte nel segno del toro quindi non escludo che o nel lavoro o in famiglia si possano creare dei momenti di tensione o di forte stress a causa di impegni di situazioni che vi portano a sentirvi un po' intasati non entrate a gamba tesa non traete conclusioni affrettate cercate di far fluire tutte queste cose e cercate di disinvestire emotivamente in quelle giornate allo stesso tempo però le giornate di lunedì e di martedì possono portare sono molto interessanti per chi deve sostenere degli esami o dei colloqui di lavoro e se dovete fare delle richieste se dovete lanciare un amo fatelo proprio tra lunedì e martedì con la luna nel segno che vi aiuterà a rilasciare nel cosmo un'ottima firma energetica da protagonisti le giornate che vanno da mercoledì mattina tutto giovedì e la prima parte della giornata di venerdì saranno caratterizzate dalla luna di transito nel segno dei pesci questa luna andrà in trigono con tutti quei pianeti che stanno lavorando nel segno del cancro e quindi vanno ad armonizzarsi le frequenze e lì possono arrivare delle risposte importanti che portano delle conferme importanti delle gratifiche dei riconoscimenti sia a livello personale ma anche a livello professionale e se avete fatto delle richieste importanti se dovete rinegoziare delle cose se lavorate soprattutto in un team e lavorate in squadra c'è la possibilità di raggiungere un ottimo traguardo tra le tante cose quelle sono giornate che vi porteranno ad avere una nuova consapevolezza a capire che è arrivato il momento di disinvestire su tutto quello che rappresenta un ostacolo o una perdita di tempo e concentrarsi solo ed esclusivamente su quelle cose che sono realizzabili nell'immediato oltre a questo la luna vi porterà a prendervi una bella rivincita o a togliervi una soddisfazione soprattutto nei confronti di qualcuno che nel passato vi ha messo alla prova o vi ha remato contro e quelle sono giornate che vi porteranno a dire oh finalmente la ruota è girata anche per te non solo per me le giornate invece che vanno da venerdì pomeriggio tutto sabato e tutto domenica saranno caratterizzate dal transito della luna nel segno dell'ariete ottimo il fine settimana per concedersi un piccolo spostamento un piccolo viaggetto per organizzare qualcosa con gli amici qualcuno potrebbe però tirarvi un piccolo bidone all'ultimo minuto e quindi magari vi dovrete riorganizzare all'ultimo all'ultimo secondo ma vi troverete comunque al posto giusto nel momento giusto con le persone giuste è un weekend magari dove alcuni di voi sentono forte la necessità di prendersi cura di sé di concedersi delle coccole di rallentare un attimo ed è proprio importante questo fine settimana anche per per mettersi un po' al primo posto e dire no ragazzi io sono la priorità io sono importante e quindi devo prendermi cura di me delle mie cose da fare anche perché è possibile che in questo fine settimana alcuni di voi sentano proprio il bisogno di riorganizzare di mettere a posto di mettere in ordine di sistemare di fare delle cose che magari avete anche trascurato e messo da parte ultimamente per quanto riguarda invece il discorso sentimenti e relazioni venere in questo momento sta transitando nel cancro che per voi rappresenta la sesta casa astrologica e la sesta casa è un po' come avere il cuoricino in una borsa frigo per paura di emozionarsi o per paura delle emozioni degli altri che non riuscite in questo momento a gestire e quindi questa è una venere che vi aiuta a fare pace con il passato ad archiviare qualcosa che vi ha fatto soffrire vi ha fatto male ma allo stesso tempo vi fa vivere molto più intensamente le cose e quindi per paura anche di affezionarsi per paura di non essere ancora di non essere ancora del tutto capaci e pronti di lasciarsi andare il rischio è proprio quello di chiudersi per effetto contrario quindi dovete anche un po' capire voi come sta agendo questa venere e quindi questa settimana c'è la possibilità proprio nelle giornate quelle che vanno da mercoledì pomeriggio tutto giovedì e la prima parte del venerdì di chiudere definitivamente con qualcosa di doloroso del passato ottenere delle conferme prendersi qualche rivincita una soddisfazione importante così come vi sentirete magari un po' più pronti un po' più predisposti da adesso in avanti a mettervi anche in discussione in una relazione e in un rapporto però se siete single è possibile che ci possano essere degli incontri con persone che magari vi accompagnano su luglio a un altro appuntamento o con queste persone il rapporto si trasformerà in qualcos'altro nel mese di luglio e le giornate più interessanti per fare conoscenze sono proprio quelle verso la fine di questa settimana se invece siete in coppia il lavoro le responsabilità la famiglia i figli tutto quello che in qualche modo preme in questo momento può sottrarre tempo di qualità quindi ora più che mai bisogna tracciare dei confini ben precisi per proteggere la coppia da tutte queste aggressioni esterne e ritagliarvi del tempo di qualità da condividere con il partner fatelo nelle giornate di mercoledì giovedì e venerdì che sono le più interessanti proprio per condividere con il partner ma soprattutto parlate non trattenete le cose in questo momento fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro una splendida settimana stellare ciao parliamo del segno dei pesci o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale i pesci da questa settimana verranno ufficialmente traghettati fuori da uno dei momenti da uno dei passaggi astrologici più delicati degli ultimi mesi che ha coinvolto i pesci in un lavoro molto importante di rinforzo del guscio dove alcune situazioni possono aver generato tutta una serie di pressioni sia sul versante familiare ma anche nelle questioni professionali che vi hanno portato a farvi un mazzo così negli ultimi mesi ed è adesso con questi pianeti che stanno transitando nel segno amico del cancro che avviene una fase potente di risveglio ed è un risveglio anche delle vostre capacità dei vostri talenti dove vi sentite più fiduciosi del domani ma anche delle vostre capacità e vedremo da questa settimana un nuovo pesci che scenderà in campo per legittimarsi per prendersi anche un po' tutto quello che gli è stato tolto o che si è negato nel corso degli ultimi mesi e quindi arrivano da questa settimana delle importanti consolazioni arriveranno dei feedback super positivi e delle conferme importantissime la settimana si apre con una luna di transito nel segno dell'acquario quindi una luna che a inizio settimana si trova nel segno alle vostre spalle e quindi tutto quello che ha a che fare un po' con la pianificazione l'organizzazione tutto quello che è connesso con la casa tutto quello che ha a che fare con le responsabilità i ritmi sono un po' il comune denominatore di questo inizio di settimana il rischio qual è? è quello che nei primi due giorni di questa settimana possano arrivarvi delle richieste ingombranti così come c'è anche il rischio che qualcuno possa approfittarsene della vostra disponibilità e quindi tenetevi anche un po' alla larga da quei colleghi che chiedono 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 senza dare niente in cambio colleghi ma anche parenti ragazzi quindi teneteli un po' da parte per il momento allo stesso tempo le giornate di lunedì e di martedì possono essere anche molto interessanti per tutti quei pesci che stanno aspettando di ricevere delle conferme per quanto riguarda la casa un mutuo che avete richiesto un finanziamento un prestito eccetera eccetera ma le giornate più importanti sono quelle caratterizzate dalla luna che transita proprio nel vostro spazio zodiacale tra mercoledì nella tarda mattinata fino a venerdì mattina quelle sono le giornate dove finalmente il nostro pesci tornerà ad essere protagonista scalerà le vette e questo vi porterà ad ottenere dei riconoscimenti importanti a ottenere delle conferme a ricevere delle telefonate si sciolgono anche parecchi nodi del passato di tutte quelle tribolazioni che avete sostenuto e gestito nel corso degli ultimi anni e peraltro c'è anche la possibilità che un figlio un parente vi possa rendere davvero orgogliosi e fieri quindi quelle sono giornate estremamente importanti se dovete fare delle richieste se dovete smuovere delle cose se dovete prendere delle decisioni se dovete mostrare anche agli altri quali sono le vostre qualità scendete in campo e mettetevi in gioco proprio in queste giornate oltretutto non escludo che possano essere delle giornate che risvegliano e riattivano delle cose che avevate messo da parte come progetti molto ambiziosi ambiziosi idee ma anche cose che sono molto feconde e che si stanno proprio risvegliando grazie a questi pianeti di transito nel segno del cancro le giornate invece del fine settimana saranno caratterizzate dal transito della luna nel segno dell'ariete attenzione un po' alle spese a non eccedere con gli acquisti nel fine settimana ma se date retta a me accettate un invito anche se non avete voglia nel fine settimana perché nonostante tutto potreste potreste lasciare il segno per quanto riguarda il discorso sentimenti venere in questo momento sta brillando nel segno del cancro e illumina il vostro palcoscenico questa venere vi rende iper visibili molto affascinanti seduttivi e vi aiuta anche ad allacciare più facilmente i nuovi rapporti le nuove relazioni questa settimana non escludo che proprio nelle giornate tra mercoledì e venerdì possano crearsi delle situazioni se siete single molto interessanti e molto stimolanti sia con persone nuove ma anche con persone di un lontanissimo passato la buona notizia è che se siete single ma lo siete a causa di un passato tormentato che sembrava quasi che non volesse lasciarvi abbandonarvi mai ecco che da questa settimana avverranno delle cose vivrete delle esperienze farete farete delle esperienze vivrete delle emozioni che vi aiuteranno a sciogliere i nodi nei confronti del passato e a lasciarlo andare o a chiuderlo definitivamente preparandovi così a fare delle nuove conoscenze se invece siete in coppia questo è un momento molto importante per chi sente il desiderio di mettere al mondo un figlio ma anche per tutti quelli che desiderano costruire avere delle conferme importanti in un rapporto e per certi versi questa settimana si alza anche un po' l'asticella delle aspettative e questo vi porterà a ottenere dall'altra parte delle conferme importanti il partner potrebbe sorprendervi mostrandovi può diventare il vostro alleato e sponsor numero uno su cui investire e questa settimana possono anche arrivarvi delle proposte molto particolari come pianificare una futura convivenza organizzare un viaggio per testare quella che poi sarà una futura convivenza o anche ricevere una proposta di matrimonio perché no quindi sfruttate al massimo questa settimana perché è molto molto importante vi restituisce un po' tutto quello che vi è stato tolto nel corso degli ultimi mesi fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io auguro a tutti una splendida settimana stellare e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.